Situata nelle ampie colline della Valpolicella, la chiesetta di San Cirieco a Negrar di Valpolicella presenta una facciata di stile neoclassico a capanna. Fatta edificare nel 1758 dai conti Bonn, la chiesetta possiede elementi caratteristici del tempo, quali l'antico confessionale accanto alla porta, le finestre tipiche dello stile veneziano, numerosi quadri che rappresentano la via Crucis e dal centro della parete absidale la pala datata 1758 con il nome di San Cirieco con San Largo e San Smaralgdo e la Vergine con Bambino del pittore Gian Lorenzo Buratto. Accanto all'altare è presente una statua bianca che raffigura il santo a cui è dedicata la chiesetta, San Cirieco. La pavimentazione è realizzata con piastrelle in ceramica rosate. L'ambiente interno è caratterizzato da semplicità compositiva. Al contrario, accanto all'altare si possono notare maggiori dettagli, quali i due candelabri laminati in oro ed un terzo pendente dal soffitto, donato da un abitante del luogo alla chiesa. Al suo interno sono presenti molte statue che raffigurano Sant'Antonio, Santa Teresa, la Vergine Maria e Santa Rita. Il campanile non si trova accanto alla chiesa, ma è presente all'interno della casa che apparteneva ai conti Bonn. Successivamente, tra il 1965 e il 1975, è stato aggiunto l'intero arredo liturgico. Era stata costruita al fine di facilitare la celebrazione della Messa. In questo modo, infatti, le numerose persone del luogo non dovevano spostarsi fino alla parrocchia di Negrà, poiché anche nella chiesa di San Cirieco veniva celebrata la Messa. Nell'ultimo decennio, però, non è stato possibile celebrarla. Infatti, la chiesetta è progressivamente rovinata dagli eventi atmosferici e dalla mancata ristrutturazione. La chiesa è stata donata dai conti Bonn alla parrocchia di San Martino di Tours, a Negrà di Falpolicella, alla quale appartiene tuttora.